Buongiorno, mi hanno regalato delle castagne e oggi li sto cucinando in due vecchie padelle perché ne voglio cucinare tante e le altre oggi le preparerò per congelarle li laverò, farò il taglietto come voi vedete e li metterò nelle bustine del congelatore così avrò castagne tutto l'anno e durante l'anno già congelate dal momento che sono conservate già lavate, già tagliuzzate, li metterò in padella per cucinarle sono quasi buone ok sto usando fornello medio, fiamma media e fornello piccolo aperto tutto perché dal momento che la fiamma è piccola questo coperchio che vedete col comello bianco ce l'ho da anni fa quando c'è stata anni fa un'offerta però naturalmente è sempre della MagiCookery ok sono cotte chiudo le gasse e li metto in questo contenitore dopo aver messo il povagliolo vedete ho usato padelle vecchie in modo che non rovino le nuove perché è venuto il tempo di non buttare più le padelle vecchie servono castagne, peperoni ora li vado a chiudere per bene così si ammorbidiscono e si continuano nella loro cottura ecco li mantengo così per un po' a caldo ok castagne arrostite per oggi buongiorno a tutti ecco l'abbiamo a tutti